È tutto così perfetto. Viviamo in un posto magnifico. Adoro questa vita. Azienda del gas. Infatti, dopo l'aggiudicazione provvisoria da parte dell'azienda ceramiche Nuova Rivest, che aveva offerto l'importo di 1.030.000 euro, l'ufficio di piano ha evidenziato alcune criticità emerse dal confronto del PUC, adottato in giunta lo scorso 15 marzo con il piano delle alienazioni, approvato invece con delibera di consiglio comunale il 23 aprile. In particolare, si è rilevato che per l'effetto dell'adozione della nuova strumentazione urbanistica, l'immobile, costituito dal capannone, dagli uffici e dallo spazio esterno, sito in via Palumbo, si trova in un ambito di riserva pubblica relativo ad aree ed edifici di proprietà pubblica destinati esclusivamente alla realizzazione di alloggi residenziali sociali e ai trasferimenti compensativi di diritti edificatori. Ora, quindi, è necessario allineare i due atti programmatori. La destinazione impressa nel PUC adottato non è coerente, infatti, con la stima del servizio patrimonio relativo all'immobile in questione. Peraltro, il valore che dovrebbe attribuirsi all'immobile, se si volesse tener conto della destinazione urbanistica prevista dal PUC, non corrisponderebbe più alle potenzialità di sfruttamento del bene, sensibilmente limitate e ridotte dalla nuova disciplina urbanistica. Per questo motivo, da Palazzo di Città è stata annullata la procedura di alienazione e quindi del bando e dell'aggiudicazione provvisoria. Salvo una sua riedizione, una volta che le due previsioni, quella pianificatore e quella delle alienazioni, risultino allineate.